eccoci in cima alla teta dentro e dessous 2700 metri circa panorama incredibile 11 settembre 2010 ecco la punta walker cima delle grange orasse la cresta ovest ecco il dente del gigante mont blanc d'utacul momodi mont blanc a guille noire de peterey a guille de leschaud monte groivetta a guille de triolet andiamo un po sulla cresta ecco zona rifugio bonatti testa bernarda cina operatore salve